Che sono niente? Perotti Flavio la guida su Alfa 33 quadrifoglio verde del 1888 andiamo a trovare gli amici ferrari Lugana sud Dov'è che si porta a parcheggiare? 3 febbraio qui dove c'è con la macchina nera gira dentro a destra qua veicoli abusivi saranno rimossi i veicoli abusivi saranno rimossi si ma noi non siamo abusivi e parcheggiamo lì è un po' pieno aspetta ma allora lo troveremo qui è un po' stretto ma dovrebbe starci si sicura che noi ci stiamo dentro lì? dove? no perchè non è un po' stretto è molto stretto allora andiamo lì, vai lì a girare lì davanti come? qua dove stanno andando quelle due ragazzine? e quella lì a 458 Italia? questa? no no questa è la Gallardo abbia pazienza questa è la Borghini e non ha mica paura delle ferrari questa è la super leggera quello che ti diceva? venga ragazzi tranquillo quando non ha paura non si può parcheggiare qua eh? posteggi riservati ai clienti di sala ferramenta Newit si si vai dentro qua, lasciala qua e poi e poi qui siamo anche qui siamo qui siamo qui siamo qui siamo qui c'è anche il bar resta della ferrari guarda checkpoint e poi Grazie. Mekbar? Ferrari? Non ci puoi fare il giro? Non ci puoi fare il quattro. Quelle? Br-alto, non no. Ru-alto. Sì, lo mette anche il vento, eh? Sì, lo mette anche il vento, esatto. Sì, lo mette anche il vento. Gra macchina. Com'è? Fa una foto alla Enzo, ci potrà? Eh, basta chiedere, sì. Ci volevo chiedere? Andiamo, sì, sì. Sto girando un filo? Sì. Questa è la 458 Italia, vede dove ha le pinze di credi? E gli prendeva fuoco per la paratia? Che... che... che sfiga? Eh? E il proprietario poteva anche essere incazzato? Lunga? Poteva anche essere incazzato? C'è un'acchiazione? C'è un'acchiazione? C'è un'acchiazione? Ah, vede se poteva essere incazzato? Siberia sulla Bentley, si, si. Grazie per la visione.